buongiorno a tutti come avete visto nei miei precedenti video ho installato in un notebook datato un hard disk ssd sostituendo quello meccanico in quanto più lento e ho installato la ssd perché è molto più veloce e performante oggi vedremo come recuperare questo hard disk meccanico per trasformarlo in un hard disk esterno per fare questa operazione ho acquistato su amazon questo case esterno per disc rigido unità da 2,5 pollici unità usb 3.0 nel quale possiamo andare a installare gli hard disk 2,5 pollici se serialata 1 2 3 i famosi hard disk da 9,5 mm fino a 7 mm questo è il cavetto in dotazione qui abbiamo il case esterno nel quale dovremo andare a inserire l'hard disk quindi adesso rimuoviamo le pellicole da questa custodia la custodia dobbiamo aprirla facendo scivolare la parte esterna verso il basso dopodichè prendiamo il nostro hard disk meccanico che lo possiamo andare a inserire all'interno della custodia andiamo a inserire così facendolo scivolare colleghiamo i contatti infiliamo il coperchio superiore lo facciamo scivolare facciamo un po' di forza va bene così questa custodia esterna rigida è fatta in modo tale da lasciare areato la parte interiore interna in modo tale che non si surriscalda l'hard disk e adesso lo andremo a collegare per mezzo del cavo usb 3.0 al nostro vecchio notebook che abbiamo potenziato installando la ssd questo è il nostro boom vecchio notebook il nostro hard disk interno che abbiamo chiuso nella custodia per trasformarlo in esterno inseriamo il cavo usb quando l'hard disk entra in funzione c'è un led blu che si accende si spegne in modo intermittente il computer lo riconosce come unità disco F open folder to view files quindi possiamo aprire la cartella per vedere i file qui dentro c'è tutto il sistema operativo precedente con diverse cartelle l'hard disk funziona facciamo qualche operazione per vedere se riusciamo a operare sull'hard disk creiamo una nuova cartella come vedete funziona come una normale hard disk esterno quindi questo è un modo per recuperare il nostro hard disk meccanico quando l'abbiamo sostituito con una più performante ssd operazione estremamente semplice e se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su commentate sotto e noi ci vediamo al prossimo video un saluto da giovanni ciao a tutti Grazie.